Riaprire almeno una delle due careggiate nel più breve tempo possibile lungo via Fra Generoso è questa la richiesta avanzata dalla polizia stradale Danas per ridurre le criticità sulla viabilità. Siamo al primo agosto e ci sono i vacanzieri ma c'è soprattutto l'attività del porto cittadino che ha difficoltà a far defluire i mezzi di trasporto. L'impegno del comune di Salerno è quello di lavorare non stop dunque per arrivare alla riapertura almeno di una corsia considerando poi invece che ci vorrebbero almeno 48 ore per poter riaprire tutta la strada. Intanto come c'era da immaginarsi la mattinata in città è stata complicata sul fronte via Abilità nelle strade più vicine a quelle chiuse quindi via Fra Generoso ed ancora via De Renzi. In via Benedetto Croce, il via Dottogatto, via Ligè e soprattutto l'area antistante il porto cittadino sono queste le aree in cui il traffico si è congestionato. Dinanzi al porto una pattuglia della municipale a regolare il traffico in uscita dallo scalo portuale oggi ci sono 100 mezzi pesanti a riferito la municipale di Salerno tutti sul via Dottogatto con la soluzione trovata che è quella poi di incalanarli verso Vietri sul mare e quindi cava ma con l'inevitabile traffico e le lunghe code anche su via Benedetto Croce. Pesanti disagi per i conducenti dei mezzi ma anche per gli automobilisti mentre intanto della gestione del traffico sul via Dottogatto si discuterà nel pomeriggio in una riunione convocata in prefettura a Salerno. Grazie a tutti.